su instagram mio ecco ecco ovviamente sono i social quindi fate un bel ciao insomma siamo qui al centro commerciale aprile a 2 vero? aprile a 2 e c'è questo pubblico fantastico qua insomma voi dovunque collegate che anche se ho una pagina facebook siete i c-mail? di quanti siete? la roba è come il numero di prima una roba così siccome ci sono tante cose e poi anche tanti spettacoli e concetti anche delle vostre parti ti corrigge voi voi seguitemi perché insomma possiamo divertirci dunque kiss me dice parliamo